Non sempre si può essere al top, non sempre si possono raggiungere i massimi risultati. Questa non è sicuramente una crisi perché comunque la squadra gioca, propone, arriva al gol abbastanza anche facilmente per episodi. Poi in queste ultime due partite non siamo arrivati a quello che volevamo. Però la squadra non è assolutamente morta, quindi non si parla assolutamente di crisi. Quindi prendiamo queste due sconfitte con la giusta filosofia e traendo le conclusioni che come quando vincevamo bisogna sempre migliorare. Quando perdi e esci fra gli applausi del tuo pubblico è ovviamente una cosa estremamente positiva. Perché significa che hai divertito, ti sei divertito perché comunque hai cercato sempre il gol, sempre hai cercato di vincere la partita. Anche quando eri in dieci e perdevi la squadra ha giocato con l'unico obiettivo di vincere. Non di magari non prendere il secondo, sì pareggiamo però poi ce l'aggiostriamo. No, invece la squadra ha sempre voluto vincere. L'hai persa paradossalmente in parità numerica. È andata così, questa è andata così, ci servirà di lezione. La più ostica intanto è Comu, domenica. Io non so neanche con chi giochiamo dopo perché è inutile pensare a quelle successive. Ora c'è da preparare una sfida in trasferta con una squadra che ha bisogno di sperato di punti. che sicuramente proporrà una partita sulla falsariga delle altre dove abbiamo trovato un po' più di difficoltà con gli altri che si chiudevano molto bene, in maniera molto ordinata, che cercano di non farci giocare. Quindi come dicevo prima dovremo lavorare ancora di più e meglio in settimana e dimostrare domenica che il Pescara è più forte ed è più forte sul campo. Grazie.